Due vecchietti ultra ottantenni, molto amici, tra di loro si incontrano dopo tanto tempo, allora uno dice all'altro Ah Gioa, ciao bello, come te la facci? Mamma mia quanto tempo è che non te vedevo, ma allora come stai? Che vita fai? Eh che vita faccio Giuseppe? Che vita vuoi fare l'età nostra? Mo ho 87 anni quindi faccio vita regolare insomma, la mattina mi sveglio presto, la sera vado a letto presto, magno tutto regolato, mi tengo sotto controllo Ma perché? E te che fai scusa? Pure te mi sai che c'hai super giulle da mia? E io che faccio? Io invece me la passo una favola, calcola che io mi sto a divertir come un pazzo proprio Io a notte vado a letto tardi, a mattina mi sveglio quando mi pare, poi mo ho la brasiliana dei 25 anni quindi a mattina appena mi sveglio mi fa quelle colazioni sfiziose e dopo colazione chiaramente capisci a me Ma davvero mi sta a scherzare? Ma che sta a scherzare? Poi calcola che arriva l'ora di pranzo, quindi mi fa un altro pranzetto sfizioso, poi mi mette qua la musichetta brasiliana, ballamo un po' di samba e dopo capisci a me? Ma davvero mi sta a scherzare? Mamma mia ma c'è un fenomeno e poi? E poi che stasera che è il momento più bello mi fa quelle cenette meravigliose e poi mi si rimette a ballare la samba e io quando la vedo che balla la samba capisci a me? Mamma amico mio ma davvero? Senti ma quant'è che sta a fare sta vita? E niente ho chiamato l'agenzia ieri comincio domani